Lei mi deve spiegare come le viene in mente di azionare un trapano alle sette e un quarto di mattina. Signora non c'è, io operaia, faccio lavori di casa. Io non mi posso più permettere di pagare l'affitto dell'appartamento dove stanno. Ma sei impazzito? Io ho tu e i tuoi due figli! Mi spieghi che c'entri te con questa? Ma perché ti devi intromettere? Prendi la palla al balzo. Che cosa ci voleva a prendere due tazzine e a metterle nella lavastoviglie? Mamma mia quanto pesano quei tazzine! Luisa Tombolini, tanto piacere. Sono la nuova vicina di casa. Quando fumavo l'ultima sigaretta della giornata era sempre la più bella. Poi ho smesso. Anch'io vorrei tanto smettere. 250 tutta la notte? È una battona. Ma come le viene in mente? Ma le sembra una battona, le sembra? Le sembra una battona! Ma che hai fatto? Ho fatto. Dov'è mia figlia? Oddio, mi hanno scambiato la carrozzina o mi hanno cambiato la ragazzina. Cosa intendete voi per depressione? Papà, lascia vedere. No, no, parla qui. Io intendo per depressione che la gente si vuole divertire. Volemo ridere. Improvvisamente ti piace la mia musica? Ha fatto conoscere un aspetto di lei che francamente non so aspettare. Ma che cinto io al marimo del tuo fratello? Non cinto nulla con la tua famiglia. Cerca di comprendermi, dai. Gli ho dovuto dire che sei il mio fidanzato. Che cosa gli hai detto? Lui è Federico, il mio fidanzato. Ti sei? Tu hai infilato un pezzetto di lingua un po' da gatto. Io? Ma quando mai? No, 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 no. Io l'ho lasciata ferma all'uscita, così. A capocetta, così. Grazie. Grazie.